Vittorio Brumotti con le sue inchieste contro la criminalità realizzate per striscia la notizia rischia grosso. Di recente è stato vittima di un'aggressione, hanno anche sparato alla sua macchina. Vittorio sembra sprezzare il pericolo, l'aggressione subita non lo ferma dice sui social. Ieri abbiamo visto un altro lato dello Zen di Palermo, scrive su Instagram, tutto molto apprezzabile e se avessi avuto tempo l'avrei mostrato anche io, ho passato giorni in quel quartiere mascherato per vedere i bambini giocare con le famiglie unite. Ma più palesemente ho notato la gente che domina in modo malavitoso, ho notato anche le forze dell'ordine e il loro operato. Quando arrivo mi mimetizzo con il territorio e filmo ogni cosa ma poi vi riassumo tutto in pochi minuti nella trasmissione, racconta Brumotti, non pensatemi superficiale ma molto attento alle problematiche e so che tanti di loro per mangiare fanno dell'illecito. Il mio scopo è svegliare la politica per far sì che non si debba vivere solo di illecito, ma è traviare la verità e l'omertà va sconfitta. Comunque ieri abbiamo notato che allo Zen di Palermo si spaccia regolarmente anche adesso. Mi chiamano a bombazza perché sono pronto a lanciare notizie scomode me bomba. I love you.